la beatitudine è qualcosa che è possibile esplorare ed è qualcosa di estremamente pratico da ricercare non ha nulla a che vedere con teologie e filosofie se diventa qualcosa di intellettuale qualcosa da studiare perde ogni contatto con l'esistenza con il reale in quel caso un esercizio totalmente inutile ogni tuo sforzo deve essere orientato per ricercare la beatitudine nient'altro il tuo semplice essere infelice è una prova sufficiente a dimostrare che è possibile essere felici se una persona è malata quella è una prova sufficiente a stabilire che si può essere sani solo un cadavere non si può ammalare per cui è naturale che un malato possa anche essere sano se provi dolore puoi provare piacere le due cose si accompagnano se un uomo riesce a vedere che tutto intorno a lui è buio e tenebra una cosa è certa possiede il dono della vista e quegli stessi occhi saranno in grado di vedere la luce appena arriverà i ciechi non sono in grado di vedere il buio di solito si pensa che un cieco debba vivere nell'oscurità ma non è così non la può vedere l'oscurità un'esperienza connessa alla vista tanto quanto lo è la luce ebbene se in questo momento sei infelice non è qualcosa di cui preoccuparsi di fatto è solo un ottimo segnale rivela semplicemente la tua capacità di essere felice ed estatico so ha un ottimo segnale rivela semplicemente la tua capacità di essere felice ed estatico grazie a tutti